Il Comune ha avanzato una richiesta di finanziamento al Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca al fine di effettuare un'indagine strutturale su 13 edifici scolastici sotto la gestione dell'ente. Le scuole sono l'Istituto Comprensivo Marconi di via Egitto, la Materna Olimpia di via Castello, la Bonsignore di via Garigliano, il Comprensivo Leopardi di via Architetto Licata, la Don Lorenzo Milani di via Campobello, il Comprensivo Quasimodo di via Cappellini, la Angelo Parla di via Carso, la Vincenzo Greco di via Ale Caduti in Guerra, il plesso Serrovira di via Quignones, l'Aperitore di via Pastrenco, la Badia di via Dante, la Gaetano De Pasquale di via San Francesco e l'Anino Profumo di via Pompei, nel quartiere di San Paolo, dove è attualmente ospitato una sezione distaccata del liceo Linares. Per ognuno di questi 13 plessi Palazzo di Città ha richiesto un finanziamento di 7.000 euro. Nello specifico si tratta di indagini diagnostiche sui solai di edifici scolastici pubblici, secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2005. L'avviso con la descrizione delle procedure da seguire per poter accedere al finanziamento è del 15 ottobre scorso, sono le parole del sindaco Angelo Cambiano. Questa amministrazione è sempre vigile e pronta a sfruttare ogni occasione per attingere e alla fine di migliorare le strutture pubbliche e allo stesso tempo creare occasioni di lavoro. Il primo cittadino ci ha tenuto ad evidenziare inoltre come l'attenzione per le edilizie scolastiche è sempre stata elevata. Abbiamo aperto cantieri nelle scuole per oltre 2 milioni di euro per eseguire ristrutturazioni e per la messa in sicurezza di vari edifici scolastici come gli esili San Giuseppe, Sant'Angelo e Olimpia e l'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo. Adesso questa nuova richiesta di finanziamento è inoltrata al MIUR per indagini strutturali da eseguire su solai e pilastri portanti di 13 plessi scolastici sotto la diretta competenza del Comune. La risposta ministeriale non dovrebbe tardare ad arrivare e vista anche l'eseguità della somma da impegnare 91 mila euro è molto probabile che i fondi verranno stanziati a stretto giro di posta.